Wow, no ho sbagliato. Ho sbagliato. Oddio, non abbiamo tempo. Ma non stai neanche registrando, vero? Oh, da ragazze che gioca a Minecraft sono più usi. Fra, no, Fra, no. Fra, fra. Ma chi cazzo si ricorda quando si gioca a Minecraft? Puoi scavare le cose con le ossa. Perché poi siamo... Perché siamo? Non vuoi... No, Rick mi fa... E non c'è neanche messo il sugo. E invece no, sono limoni. Signora, hai limoni! Hai limoni, signora! Premi shift quando sei... Non è molto friendly. Premi shift quando sei nel lato di un blocco. Shift quello... Perché? Perché ti abbassi e non cadi, in pratica. Sto twercando. E quindi posso scendere? Ah, ok. Io se fossi in te non lo farei. Ti spezzi le gambe e poi... Vogliamo fare una speedrun? Fra, no, quella non è una speedrun. Pam, pam, pam. È durata molto a poco. Ma è il mio mondo! Devo fare la Tumblane, no? La mia ragazza vuole nel mio mondo hardcore. Cazzo, quante views! Lascia stare i giochini! Lascia stare i giochini! Lascia stare i giochini! La mia vita. Facciamo crea un nuovo mondo. Facciamo il survival normale, così puoi morire. Chiamalo come vuoi. Ovviamente è difficile. Ma perché è difficile? Puoi scrivere una stronzata e te lo trasforma in un seme per un mondo. Carnini di merda. Come vuoi. Ah, tra l'altro, bellissimo, Nicola mi ha scritto la... Davvero? Mi ha guardato i miei video senza che io gli dicessi nulla, cavallo. Lui è un vero iscritto, bravo. Dai! Io lo amo, Nicola. Io amo, Nicola. Non mi ricordo, quale roba è tipo i piccoli. Ti faccio da Minecraft Coach oppure ti lascio giocare come vuoi. No, fammi nemmeno in Minecraft Coach. Guarda l'ambiente all'occlusion. Bello, questo legno in pixel. Non è quello, guarda, guarda l'atmosfera. Bellissimo. Praticamente è Animal Crossing, ma cubetti. Ma che Animal Crossing? Wow. Innanzitutto come si apriva al menù delle cose? Eh, scopri. Questa è quella in cui hai troppato la roba, ok? Ok. Braviss. Magari no. Che senso, fratello? Hai venuto il tasto destro. Quattro, me ne fai, basta? Bastardo. No, no, da dodici ogni pezzo te ne fa quattro. Quindi te ne dà dodici per quattro. Che fa? Quattro. 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 Crafting table, ok. Attenzione. Non ci piace. Non so, Q. No, Q in qualche modo è più buono. L'ho lanciato. Come? Hai aperto la chat? Sì, buono. Scusa, scusa. YouTube. Yopl. Ma stai scrivendo in chat? Ma porca puttana! Eh? Oh, bravissimo. Questo è un modo un po' di graffare, però. Pensa a che cosa ti serve per continuare adesso questa avventura. Che cosa devi fare? Piccone. Bravissima. Come si fa il piccone? Cioè pensa alla fronte del piccone. Eh? Cos'è? Uno stick di legno. E adesso questo ti può essere un'unica. Oddio, ma qua c'ho i... Ah, i laresi. E quindi adesso puoi prenderlo. E quindi prendiamo questo piccone. Bravissimo. Col piccone, scarico. Perché con cosa cazzo lo devo rompere sta merda? Con l'ascia che non ho fatto. Vaffanculo, via, via. Oh, oh. Dovresti cercare di aimare i tuoi attacchi. Perché non puoi, non puoi spammarli. Non posso spammarli. Perché? Perché se no non puoi danno. Perché? Sì, però volevo una mucca. Cioè può succedere una mucca. No. Vedi che fai... Ma quindi Minecraft è così bastardo che ogni volta che muori... Perdi gli oggetti. Conta che la hardcore perdi il mondo proprio. Non puoi neanche recuperare nulla. Se tu hai costruito della roba la perdi per sempre. La gente usa questo gioco per rilassarsi. Teoricamente questo gioco qua anche in hardcore non è difficile. Contro, contro. Oh. Quello è un creeper. Perché mi vengono addosso? Eh, puoi dargli un abbraccio se vuoi. No. Adesso stai correndo, vedi? Vai molto più veloce. No. Ma ma io non voglio, io non voglio correre. Allora, prendi uno di nuovo. No. Sto bene così. Cosa sta succedendo? Cioè, c'hai la freccia in faccia quindi ti continua a focusarti sulla freccia. Ma no, ma perché? L'ho fatta pure. Hai un cuore in mezzo. Facciamo lì zero. Ma questo cosa? È un lupo. No. Il lupo è l'unica cosa che non ti attacca se lo attacchi tu. Non mi sembra la vostra vincente farsi i nemici quando sei già nella merda. Prendiamo da cavo adesso che è lievemente più tranquillo qui. Cioè, in realtà ho visto lì uno zombie ma è lievemente più tranquillo. Eh sì. Allora, adesso faccio un attimo delle robe qua con il legno. E poi andiamo a cercare un villaggio per stargli vicino almeno. Vai un uomo. Ah, ok. Solo uno? Solo uno. Questo. Una. Tiè. Tiè. Ok. Un paio di stecchetti. Piccolo. Mamma, ma chi sono? John Cena? E adesso puoi scavare gli blocchi. E tipo il maiale lo uccido con l'ascia? Allora, qui si entra nel combat system. La spada. Nel combat system di Minecraft, ragazzi. Non è complicatissimo ma ci sono un paio di cose da sapere. Sì, velocemente. Vedi cosa intendo? Che è molto più bene. Con la fornace facevo anche il vetro, vero? Con la sabbia. Esatto. Con la sabbia fai anche... Io da Minecraft ho imparato che si fa... Cioè il vetro si fa una sabbia. Sì, il vetro si fa una sabbia. Ma sai che io mi chiamavo Lapis su Instagram prima? Perché su Minecraft avevo tipo l'abitudine di fare i bagni in lapis puzzoli. Sì. Sai che qualcuno potrebbe prenderla per reference a questi video adesso? Oh! Un villaggetto e un pollo. Me lo cacci un uovo? Pollo? Questi sono tutti villager, vero? Nessuno di pericoloso. E con lui? Lui basta che non lo picchi e protegge i video. Ma cos'è? È un... Se lo picchio? Golem. E ti fa male. Io visto che siamo abbastanza avanti non lo farei. Ok. Ma volendo posso distruggergli la casa? Sì. Sei serio? Sì. Interessante. Questa qui è la chiesa teoricamente. Com'è la chiesa? Teoricamente è una chiesa. Oddio la religione di Minecraft. Perché mi fissano? Cioè Handsome Squidward. Cioè non cambia niente. Sì ma mi fissano è un po' un bombastic side eye. Bombastic side eye. Lili vetro. Io non scenderei. Rischiato la morte. Shhh. Parkour. Ma come scendo? E con calma. Parsimonia. Scavando. Minecraft. Mine... Minando. No. E vabbè. Mezzo porno. Adesso io starei fermo e mangerei. Ecco. Non... Non con quel tasto. Avanti. E lì. Bravissima. Però è più bello puoi scavare più cose. Grazie. Bravissimo. Amo. In realtà è copper. Perché è la forma di Among Us? Tum 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 tum. Ma poi che cazzo ci fai col copper? Niente. Cosa vuol dire niente? Niente. Ci fai i blocchi se vuole. Cosa vuol dire? Ci fai i blocchi di copper. E basta. Vabbè io ho una parola. Tu fai scavare roba inutile. Sì. E la sopra con la roba nera che cazzo è? Carbone. Quello ti serve. E quello lì è ferro. Quello è molto utile invece. Ecco. Questa roba? Sono le dripstone. Come si chiamano? Stalagmiti. 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 Le dripstone. Eh ma mi viene in mente. È stata molto interessante. È stato un buy and play. È stato un buy and play. Complimenti, complimenti. GG. Grazie. Voglio vedere come lo editi guarda. Cosa? Tutto quello che hai registrato. Alla prossima.